Io sono l'Erte Grimani, utilizzo enti locali edilizia ormai da tantissimo tempo. Lo utilizzo ormai costantemente perché adesso che ho una società che si occupa appunto di edilizia, quindi di ristrutturazioni e soprattutto di gestione di housing sociale, è uno strumento sarei dire fondamentale per poter rimanere aggiornati su tutte le normative. Soprattutto anche poi è interessante anche il rapporto con le pubbliche amministrazioni e su questo insomma uno strumento veramente molto molto interessante. Utilizzo sia da desktop che da app perché è molto intuitivo e molto facile soprattutto da usare e poi dovunque ti trovi anche magari quando sei con il tuo smartphone puoi utilizzarlo e vedere subito insomma le cose che ti possono interessare. Quando hai uno strumento efficiente ti trovi a utilizzare tutte le rubriche che ci sono, sia quelle con la pubblica amministrazione sia soprattutto anche quella con le novità sulle normative edilizie, perché poi sono quelle sicuramente che ti danno una conoscenza a 360 gradi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!